Guerrigli a Parigi durante la protesta dei gilet gialli che nonostante i divieti hanno invaso fin dal mattino la zona degli Champs-Élysées chiedendo di incontrare il presidente Macron. La protesta è degenerata con violenti scontri mentre continua il lancio di lacrimogeni. In piazza sono state segnalate infiltrazioni di rappresentanti dell'estrema destra e Cassè. Questa sera a Bruxelles la cena tra il premier Conte e il presidente della Commissione Europea Juncker presenti anche il ministro Tria e i commissari Moscovici e Dombrovskis nel menù la manovra e i tempi dell'eventuale procedura di infrazione. L'obiettivo è riavviare il dialogo politico con l'Europa ma senza rinunciare alle riforme come ribadiscono i vice di Conte, Salvini e Di Maio. Per l'intransigenza della Spagna rischia di saltare il Consiglio Europeo di domani che dovrebbe essere decisivo per avviare la Brexit. Lo scoglio resta allo status di Gibraltar. Il premier spagnolo Sánchez non vuole che le richieste di Madrid vengano scavalcate e minaccia di far saltare tutto se la bozza d'accordo non verrà modificata. Sono stati i soccorsi da un rimocchiatore in servizio davanti alla Libia, i migranti a bordo di un gommone in difficoltà. Secondo le segnalazioni raccolte dalle ONG, Natante imbarcava acqua e alcune persone erano già annegate. E' quindi arrivato il salvataggio da parte della Guardia Costiera Libica con il ministro dell'interno Salvini di nuovo a polemizzare con le ONG. Tornate a operare nel canale di Sicilia. Sui cambiamenti climatici un rapporto commissionato dal Congresso degli Stati Uniti e reso noto dalla Casa Bianca lancia un nuovo allarme. Il fenomeno, sempre negato da Trump, rischia di avere effetti pesanti sull'economia americana con costi di centinaia di miliardi di dollari. Le perdite potrebbero arrivare fino al 10% del PIL, il doppio rispetto a quanto bruciato ad esempio solo nella crisi del 2008. La Serie A di nuovo in campo dopo la sosta per gli impegni della nazionale. Oggi giocano negli anticipi tre delle quattro squadre impegnate poi la settimana prossima in Champions League. La Roma è ospite dell'Udinese, sfide casalinghe per Juventus e Inter rispettivamente contro Spalle e Frosinone. Domani il programma prevede il derby di Genova che è il primo dopo il crollo del Ponte Morandi. Una buona giornata, un buon sabato dal telegiornale della 7. Lo vedremo, è un sabato molto importante per quel che riguarda i conti dell'Italia e la partita con sicuramente la Commissione europea. Per quel che riguarda invece il primo piano, abbiamo scelto di aprire con le immagini che stanno arrivando da Parigi, dove sapete c'è un appuntamento, quello della giornata di oggi, una mobilitazione per quel che riguarda la protesta dei gile gialli, che è di fatto partita proprio una settimana fa. Il sabato scorso, le prime mobilitazioni contro il caro carburante, i depositi bloccati e anche la difficoltà sulla circolazione per i blocchi stradali, una protesta che man mano si è radicalizzata, si è strutturata, non sono mancati a dire verità gli episodi di violenza. Ma quel che sta capitando in queste ore a Parigi con manifestanti che in ordine sparso vogliono raggiungere l'Eliseo e parlare direttamente con Macron è qualcosa fuori dal controllo, come vedrete. Rischia di diventare una delle immagini simbolo di questa drammatica giornata parigina, una giornata di guerriglia che prosegue senza sosta da ore, una giornata segnata da gravi disordine e violenze lungo una delle strade più famose del mondo, gli Champs-Élysées che i gilets gialli, 8000 secondo il Ministero dell'Interno, hanno invaso sin dalle prime ore del mattino, nonostante i divieti della prefettura, la manifestazione, quella autorizzata nei giorni scorsi, dovrebbe invece iniziare a minuti sotto la Tour Eiffel, una zona più facile da controllare e soprattutto lontana dall'Eliseo, il vero obiettivo dei manifestanti che vorrebbero un confronto con il Presidente Macron che invece tiene dura e non vuole cedere di un millimetro. I tentativi della Marea Gialla di penetrare nella zona rossa disegnata attorno all'Eliseo vengono bloccati dalla polizia intenuta antisommossa che ha usato manganelli, lacrimogeni, granate assordanti e idranti per disperdere i cortei che secondo le forze dell'ordine sono stati pesantemente infiltrati dai esponenti dell'estrema destra e dai casseurs che hanno danneggiato negozi e auto e che hanno divelto l'asfalto con sbarre di ferro per lanciare sanpietrini contro gli agenti. Da giorni Marine Le Pen tenta di cavalcare la protesta incitando i geleggialli a manifestare sugli Champs-Élysées, tanto che poco fa il Ministro dell'Interno Castaner ha denunciato i rivoltosi dell'ultradestra che hanno risposto all'appello della Le Pen che ha subito replicato. Si tratta di una strumentalizzazione patetica e disonesta. La sensazione è che questo movimento che sta paralizzando il Paese si stia trasformando in una vera e propria rivolta popolare, un movimento nato spontaneamente nella più profonda provincia francese contro il caro carburante. Una decisione, quella del governo che viene giudicata profondamente ingiusta proprio da chi abita in queste zone dimenticate e che ancora una volta si sente penalizzato rispetto ai cittadini che possono invece soffrire dai mezzi pubblici e che dipendono molto meno dal prezzo della benzina. Ma intanto i sondaggi sono impietosi per Macron, la cui popolarità è in caduta libera e il Paese li sta sfuggendo, visto che da una rilevazione pubblicata ieri risulta che la maggioranza dei francesi ritiene legittima questa protesta. Allora andiamo adesso al fronte italiano che lo sapete si spende in queste ore soprattutto nella partita con Bruxelles, l'ultima occasione di confronto per il nostro governo è questo faccia a faccia con Juncker nella serata di stasera che peraltro non è un incontro a due, ci saranno altri personaggi presenti importanti, i vicecommissari, ma anche il nostro conte non sarà da solo in quest'opera di mediazione che passa a quanto filtra da una rivisitazione o comunque una rimodulazione delle misure contenute nella manovra e soprattutto anche dei tempi previsti dalla manovra. La volontà da parte dell'esecutivo è far slittare soprattutto i tempi di verifica. La Commissione è stata più volte chiara, se non arrivano ora le correzioni in qualche modo volontarie da parte del governo italiano arriveranno poi misure ancora più austere e necessarie e indifferibili perché saranno anche gli altri stati a volerle. Il dialogo con l'Europa è nell'interesse dell'Italia e della stessa Europa, ma non rinunciamo alle riforme del governo, al massimo abbiamo parlato di rimodulazioni. Il Premier Conte parla così a poche ore dalla cena di questa sera con il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, per provare a rianimare il dialogo dopo la bocciatura della manovra italiana. Eppure dai leader politici del governo, Salvini e Di Maio, al di là dei toni più rilassati, non viene messa nessuna affiche pesante sul tavolo della trattativa necessaria per evitare la procedura di infrazione. Non si tocca il 2,4% e ci può essere solo qualche piccolo spostamento da una voce all'altra sulle misure identitarie. Il reddito di cittadinanza è quota 100, la linea dei vicepremier, circoscrivendo così il margine di movimento di Conte e Tria ad una disponibilità di massima a rimodulare le misure e magari intervenire se servirà nella seconda metà del 2019, dopo le europee, posta che potrebbe non bastare. Salvini concede solo, la manovra non è un pacchetto chiuso, in Parlamento può migliorare, ma poi precisa, non ci sarà nessun max emendamento che la stravolge, non ci possono chiedere di mettere le mani nelle tasche degli italiani e per quanto mi riguarda passi indietro sulla legge Fornero. Non penso che a Bruxelles stiano guardando gli zero virgola, a Bruxelles e a tutta l'Europa interessa un'Italia che cresce. Sicuramente non penso che sanzioni economiche, minacce, ricatti, commissari, ispettori servano né agli italiani né all'Unione Europea. Sullo stesso spartito si muove Di Maio. Ridimensionare la legge Fornero, ovvero quota 100 che supera la legge Fornero e manda in pensione le persone, ridimensionare il reddito di cittadinanza significa aver perso tempo per cinque mesi. Su queste due misure non è ipotizzabile ridurre la platea. Abbiamo fiducia nelle istituzioni europee, aggiunge Di Maio. Vogliamo che capiscano che queste misure servono a crescere e a rilanciare il Paese, chiedendo di fatto la violento della procedura di infrazione in attesa che la scommessa sui provvedimenti produca i suoi effetti. Pronto ad aprire il vicepremier solo sui tagli agli sprechi e magari sulle dismissioni. Neanche lo spread sembra preoccupare Di Maio. Ieri stava scendendo, poi ha parlato Banca Italia ed è risalito, spiega. Per noi il rischio che lo spread rimanga così per anni non c'è. È una previsione sbagliata. Dunque il rischio l'abbiamo evidenziato, è quello di una cura d'austerità imposta più a lungo termine. Abbiamo sentito nelle parole soprattutto dei due vice che cosa non si farà, che cosa non si può toccare, anche sulla scorta di quell'ultima allarme segnato proprio dal rapporto di Banca Italia e dunque in che termini di manovra si muoverà il governo in queste ore e che cosa eventualmente è disposto a trattare. Proviamo a capire. Chi sa mai cosa ci sarà stavolta dentro la valigetta che Tria si porterà a cena. Sicuramente numeri suoi noti sulla manovra, però anche quelli che da poche ore sembrano orientare diversamente il vento. I numeri forniti dalla Banca d'Italia nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria che a dire il vero rischia di diventare instabilità, considerato che con lo spread a 300, che poi sia 310-290 cambia niente, il sistema comincia a sentire i primi sinistri scricchioli e la Banca d'Italia li ha tradotti in cifre fin troppo chiare e popolari. La ricchezza finanziaria degli italiani il risparmio si è ridotta di 85 miliardi di euro. Per chi pensasse allo spread come misura stratta campata in aria, ebbene 100 punti di differenziale in più valgono 30 punti di interesse in più sui mutui. Che dire, è sostanza, è reale, non tecnico. Finisce rivolo dopo rivolo nelle tasche di tutti. Si scopre con queste cifre che le banche italiane riscano più di quanto dovrebbero e potrebbero. Un'impresa aggiunge che in 12 mesi i prestiti alle aziende si sono ridotti di 36 miliardi. Poi magari ci si consola per la presidente uscente della vigilanza della Banca Centrale Europea, Daniel Nui, che per inciso sarà sostituita dall'italiano Enria, dice al sole 24 ore che gli istituti di credito italiani hanno lavorato bene. Il livello dei famigerati crediti deteriorati si è molto ridotto. La riduzione delle sofferenze è stata portata avanti con buoni risultati. E allora? E allora la Banca d'Italia con le cifre portate ieri sul tavolo del dibattito è come se dicesse quanto fatto fin qui rischia di bruciarsi con quanto si farà se si fa non tenendo conto di come funziona il mercato e di quanto può costare agli italiani. C'è indubbiamente una preoccupazione che sta salendo ogni giorno in maniera esponenziale, dichiara il leader della piccola industria, Carlo Robiglio, in un'intervista a Lanza. L'imprenditore non ha paura delle difficoltà, dice. Ha paura dell'incertezza, delle cose non chiare e mai come in questo momento vede incertezza, quindi blocca gli investimenti. C'è chi ha paura che finisca, insomma, in una caporetto. Per evitarla, metti una sera a cena a Bruxelles. Stiamo a vedere incertezza che peraltro è familiare in queste ore nei corridoi di Bruxelles perché lo sappiamo l'Unione Europea, come tutti gli altri stati membri, ha a che fare anche con tutto un capitolo ancora inesplorato che è quello della Brexit. Dicevamo siamo ormai a due anni e mezzo da quel referendum, di mezzo tante trattative, ma ci vuole un accordo per l'uscita, quello che peraltro Teresa May presenta anche al suo Parlamento, chiarendo dal suo punto di vista, che non ce ne sarà in caso di bocciatura, uno migliore, ma tutto passa anche attraverso le trattative con gli altri stati che non sono vincolanti, ma in vista del vertice di domani, fortemente a rischio, c'è proprio la Spagna come ultima incognita. Meno di 24 ore all'apertura di quello che doveva essere il summit definitivo sulla Brexit e a Bruxelles tutto è pronto anche se il vertice rischia di saltare per l'intransigenza della Spagna. Da Cuba, dove si trova in visita ufficiale, il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez ha minacciato, se non ci danno soddisfazione per le nostre preoccupazioni sulla questione di Gibilterra, probabilmente non ci sarà nessun vertice. Sono ore quindi queste di frenetiche consultazioni per evitare il fallimento dell'ultimo minuto. Madrid contesta da sempre il controllo britannico sulla rocca che si innalza tra Mediterraneo e Atlantico, un territorio Gibilterra dove tra l'altro la percentuale dei voti favorevoli a restare in Europa nel referendum del 2016 sfiorò il 100%. Madrid rifiuta in particolare l'articolo 184 dell'accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles sulla Brexit. Articolo che secondo i diplomatici spagnoli sarebbe stato aggiunto in zona Cesarini e senza che ne fossero adeguatamente informati. Articolo che affida il futuro di Gibilterra a trattative tra Londra e Bruxelles, mentre Madrid vuole che si citi esplicitamente un proprio ruolo e decisivo. Prima di mettere mano alle valigie quindi i leader europei sono in attesa di vedere gli sviluppi della situazione, ma Sirisa May oggi sarà comunque nella capitale belga. Per colloqui aggiuntivi col presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e con quello del Consiglio Donald Tusk. Perché anche se il Consiglio europeo straordinario sulla Brexit si svolgesse come previsto e l'accordo venisse firmato in pompa magna, le grane per Sirisa May non sarebbero certo finite. Anzi, l'accordo con Bruxelles a Westminster è stato già contestato quasi da tutti. Dall'opposizione dei laburisti e dei liberal-democratici, naturalmente, da una parte degli stessi conservatori, e questo è meno naturale, ma anche e duramente dal partito democratico unionista nord-irlandese, quello che con i suoi dieci deputati tiene praticamente in piedi il governo della May. Tra poche ore a Belfast la leader del partito, Arlen Foster, nel congresso annuale dovrebbe ribadire il suo deciso no all'accordo. E questo anche se la Premier ieri ha monito. Se diciamo no, a questo l'Unione Europea non ce ne offrirà uno migliore. Nell'agenda europea resta poi tutto quel capitolo legato alla politica di immigrazione, di accoglienza, la suddivisione delle responsabilità che è messo sempre più fortemente a rischio perché non ci accordo. L'ultima è stata la Mogherini, peraltro, a sottolineare tutti i rischi connessi alla sopravvivenza dell'operazione Sofia, se i termini rimarranno questi. E poi c'è il caos nel Mediterraneo, un Mediterraneo in cui fino a poche ore fa non c'era più non solo chi salvava, ma neanche chi monitorava e testimoniava. Le ONG hanno in qualche modo anche sfidato il nostro governo, la linea dei porti chiusi, e sono tornate a salvare il mare. Naturalmente poi il salvataggio nelle mani della Guardia Costiera Libica, è bastato questo per accorgersi che i drammi della mare sono costanti e quotidiani. Sono 120 e rischiano di annegare. L'allarme è rilanciato su Twitter. Ieri sera, dalla Organizzazione Non Governativa Mediterranea, ha riacceso i riflettori sul canale di Sicilia e sui disperati tentativi dei migranti di raggiungere l'Europa con imbarcazioni di fortuna. Secondo le segnalazioni raccolte dalla ONG, il gommone in avaria imbarcava acqua e alcune persone erano già annegate. L'imbarcazione si trovava nei pressi delle piattaforme petrolifere di fronte alle coste libiche. Quando ha lanciato l'allarme, è raccolto anche dal sistema Alarm Phone, una rete non istituzionale che diffonde allarmi dalla zona SAR. A bordo, un centinaio di migranti, quasi tutti provenienti dal Sudan, e la nave ONG Marionio, così come quella dell'ONG Proactiva Open Arms, in quel momento si trovava otto ore di navigazione da quell'area. I volontari hanno scambiato comunicazioni con la Guardia Costiera Italiana, ma i primi a intervenire sono stati i marinai di un rimorchiatore in servizio proprio presso le piattaforme, che hanno tratto in salvo i migranti e poi hanno atteso l'intervento della Guardia Costiera Libica. Inizialmente, secondo la versione fornita dalle ONG, non aveva risposto alle segnalazioni, ma poi ha inviato le motovedette nella zona del soccorso. Tanti saluti a scafisti ONG, è stato il commento del ministro Salvini dopo l'intervento delle autorità libiche. Soltanto ieri i rappresentanti di tre organizzazioni non governative avevano annunciato in una conferenza stampa il loro ritorno in mare per intervenire nell'area di ricerca e soccorso del canale di Sicilia e soccorrere così le imbarcazioni di migranti in difficoltà. Mediterranea, Open Arms e Sea Watch hanno spiegato di aver formato una alleanza per un'Europa solidale e attivato una flotta umanitaria aperta a tutti i cittadini. Le partenze dalle coste libiche non si sono mai arrestate del tutto e il Viminale ha anche fatto sapere che Malta in queste ore coordina un'operazione di salvataggio dei migranti a bordo di un'imbarcazione partita dal porto libico di Zlitem. Si sta chiudendo anche alla settimana in cui si sono un po' chiarite le proporzioni, le sfide all'interno del Partito Democratico, non un'impresa da poco perché ci sono una serie di candidati in vista delle primarie, alcuni che sono dati più accreditati di altri, l'ultimo a unirsi alla sfida è stato quello che era il segretario reggente Martina. Adesso ci sono le date con cui uscire dalla crisi e anche dalla metabolizzazione di quella che è stata l'ultima sconfitta elettorale. Vediamo quali sono le novità. 3 marzo, la data più probabile per le primarie del PD. La commissione congressuale la proporà la prossima settimana alla direzione, chiamata a decidere sul calendario e anche sul tesseramento, già oggetto di polemica tra i sette candidati. Nicola Zingaretti, Marco Minniti, Maurizio Martina, Matteo Ricchietti, Cesare Damiano, Francesco Boccia e Dario Corallo. Il congresso prevede una prima fase con il voto nei circoli solo per gli iscritti. I primi tre parteciperanno alle primarie. Nel caso in cui nessuno raggiunga il 51%, il segretario sarà scelto dall'Assemblea nazionale. Da decidere è anche l'ultimo giorno utile per tesserarsi e votare al congresso. Ricchietti e Boccia vorrebbero che fosse possibile iscriversi fino a pochi giorni prima del voto nei circoli. Chiedono che sia reintrodotta la possibilità di ottenere la tessera online. Gli altri chiedono invece un termine che consenta la verifica delle iscrizioni per evitare casi imbarazzanti, come l'afflusso di militanti di altri partiti. La polemica congressuale entra intanto nel vivo. Zingaretti, per il quale si schiera l'ex premier Paolo Gentiloni, in lui vedo il tasso di novità maggiore, spiega, polemizza con Martina, Ricchietti e Minniti, vicinissimi a Renzi nella stagione del rottamatore, al Nazareno e al governo. Ognuno con dignità si assuma la responsabilità di quanto è successo in questi anni, ai ruoli che si sono ricoperti. Al PD non servono gattopardi che fanno tutte le parti in commedia. Al PD serve cambiare, dice il governatore del Lazio, che si dice certo di raggiungere il 51% alle primarie. Perché il timore di Zingaretti è che dietro la molteplicità di candidature degli ex-renziani si celli il tentativo di neutralizzare le primarie per far scegliere il prossimo segretario dall'Assemblea nazionale con un accordo trasversale tra i big del partito e la benedizione di Renzi. Martina replica, occorre rispetto reciproco, evitiamo polemiche stupide e astio. Intanto, dopo la frattura tra MDP e sinistra italiana, al Teatro Ghione di Roma, attorno a Piero Grasso, si riuniscono i comitati autoconvocati di liberi e uguali, che non vogliono archiviare l'esperienza di Leo per una confluenza nel PD e puntano a continuare il progetto di una forza di sinistra autonoma. Dunque, domani è la giornata contro la violenza sulle donne, una strage quotidiana nel nostro paese che a lungo purtroppo è stata anche una strage silenziosa. Man mano che passano gli anni, le settimane, soprattutto le denunce e le prese di consapevolezza, diventa invece una strage condivisa, soprattutto le scelte diverse, le donne che ce la fanno e sopravvivono, che decidono di raccontare la loro storia, alle donne accanto, alle donne colpite che fanno in qualche modo squadra. E sono una serie importante di giornate e soprattutto di iniziative sparse su tutto il territorio. Desiree, Pamela, Lucia e tantissime altre, donne che non ci sono più o che portano per sempre i segni della violenza dell'uomo, compagno, marito, ex. Ogni anno è un rito macabro ma necessario, quello della conta, numeri da strage, delle vittime della violenza maschile, alla vigilia della giornata del ricordo e della protesta contro queste morti. Troppe, dal 2000 ad oggi sono 3100 le donne uccise, quasi 3 alla settimana, solo 70 negli ultimi 10 mesi e la maggior parte, oltre l'80% di questi femminicidi, avviene tra le mura di casa. Bisogna denunciare e non sottovalutare, quasi in un caso su due, di femminicidio la denuncia c'era stata. Morti annunciate dunque. Il 45% delle denunce, oltre 4 su 10, presentate dalle donne contro i mariti o i partner violenti, vengono archiviate. Il tema è delicato e molto c'è ancora da fare, come ha sottolineato anche il capo della polizia, Franco Gabrielli. Nel momento in cui una donna decide di denunciare ma quella denuncia non ha l'adeguata attenzione da parte nostra, noi facciamo un doppio delitto, ha detto. Le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza nel 2017 per chiedere aiuto sono quasi 50.000, il 26,9% sono straniere, più della metà figli, nel 70% dei casi sono minori. Gli stessi responsabili di queste strutture fanno presente come la situazione sia davvero grave e come anche da parte della giustizia manchi, soprattutto per quanto riguarda la violenza tra le mura domestiche, un'attenta valutazione del rischio. E ancora, mancano più di 5.000 posti letto per chi fugge da casa e i fondi pubblici sono scarsi e utilizzati male. Per non abbassare la guardia, l'associazione Non Una Di Meno ha chiamato a raccolta la marea femminista, madri, sorelle, amiche, migliaia di donne che protestano contro ogni violenza e che scenderanno in piazza a Roma tra poco per una manifestazione nazionale. Ma le iniziative di sensibilizzazione ci saranno in moltissime città italiane. Anche i giocatori della Serie A saranno in campo con un segno rosso in viso. La campagna social della Camera dei Deputati ha coinvolto personaggi del mondo dello spettacolo per ribadire che non è normale che sia normale. E ci sono associazioni femministe coinvolte anche nella giornata complicata da diversi punti di vista. Non ultimo, quello dell'ordine pubblico attesa a Verona arriva dopo una settimana di polemiche, una serie di cortei. Cerchiamo di capire che cosa ci attende. Porta palio a Verona, il convegno internazionale di forza nuova sulla famiglia irrompe e divide la città per la vita. Così Verona è definita da quando, prima amministrazione comunale, ha sostenuto con un voto in consiglio comunale quelle associazioni cattoliche che aiutano le donne a non interrompere la gravidanza. Ci sono esponenti delle forze europee di estrema destra arrivate da Polonia e Slovacchia. Forza nuova ribadisce la sua posizione contro l'aborto, forte della nuova ondata nazionalista dell'est europeo e lamenta le deboli prese di posizioni della destra italiana in tema di famiglia. Nel pomeriggio gli attivisti si uniranno al corteo No 194, l'associazione che da anni si batte per l'abolizione della legge sull'aborto a cui è iscritto il ministro leghista per la famiglia Fontana. Da una parte la manifestazione degli antiabortisti sfilerà nel centro città, presidiato dalle forze dell'ordine, e in contemporanea in un'altra zona, al di là dell'Adige, ben lontani la protesta di quella parte della città che si oppone al pesante clima che si è creata a Verona. Un presidio è una conferenza stampa delle associazioni della galassia della sinistra veronese per denunciare che Verona è diventata il laboratorio di un assalto ai diritti che si ritenevano ormai inalienabili. Ci saranno anche le attiviste di non una di meno perché da qui è partito lo stato di agitazione permanente delle ancelle che avevano protestato con forza contro la mozione antiabortista, poi passata in Consiglio Comunale con il voto, tra molte polemiche, anche gli esponenti del PD in una grande manifestazione di piazza, il 13 ottobre scorso, fin sotto il municipio. Allora, la DIA di Palermo ora una maxiconfisca giudiziaria in termini di proporzioni non ha molti paragoni in Italia riguarda il patrimonio di quello che era l'ex titolare della Valturo, un imprenditore morto due anni fa ma i suoi beni avrebbero rivinguato casse molto vicino al clan di Messina Denaro. Era un impero da un miliardo e mezzo di euro. Oggi l'annuncio della confisca da parte della Direzione Investigativa Antimafia in una delle operazioni più grandi degli ultimi anni. Il patrimonio sottratto agli eredi era di Carmelo Patti, l'imprenditore di Castelvetrano, ex patron della Valtur, morto due anni fa e più volte indagato fin dagli anni 90 per mafia. Accusato di riciclaggio, frode fiscali, evasione. Gli inquirenti lo hanno sempre ritenuto vicino a Matteo Messina Denaro, l'ultimo grande latitante di Cosa Nostra. Patti aveva un forte legame con il cognato del super boss, Michela Lagna, che era diventato anche uno dei suoi più stretti collaboratori. Nella confisca ci sono anche i beni riconducibili a Cabela Electra, la società fondata negli anni 60 dalla famiglia Patti, poi diventata una multinazionale. Carmelo Patti, sul finire degli anni 90, era diventato il capo di un'azienda simbolo dell'industria turistica italiana, la Valtur, ora in amministrazione straordinaria. Numerosi resort sono passati tra i beni dello Stato, da quello di Caporizzuto in Calabria, a quello di Punta Fanfalo, fino a Favignano e Crotone. Tra le proprietà sequestrate è anche un golf club, un veliero di 21 metri, terreni oltre 200 immobili. Lo Stato è capace di costruire degli anticorpi, di rigenerarsi, magari lentamente, e di colpire. Patti avrebbe consegnato ingenti somme di denaro un sindacalista, Santo Sacco, che poi si è scoperto essere uno dei fidati postini di Matteo Messina Denaro. Sui suoi conti sono passati quasi un miliardo di vecchie lire. Negli anni, diversi collaboratori di giustizia hanno confermato che la figura di Patti era legata alla mafia trapanese. Tra questi, Angelo Sino, all'epoca considerato ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra. Ci sono argomenti su cui il Presidente americano Donald Trump non ha mai mostrato grande sensibilità, in alcuni casi addirittura una forma ostruzionistica di negazionismo. Per esempio, cambiamenti del clima. L'ultima volta in cui gli Stati Uniti si sono confrontati sul tema è stato proprio il momento relativo alla grande emergenza incendi in California. Adesso c'è un rapporto voluto, peraltro, dal congresso americano che evidenzia quelli che sono i costi dei cambiamenti climatici. Allora, quando forse anche Donald Trump sente parlare di 10% del PIL americano, qualcosa potrebbe muoversi. Il clima sulla Terra sta cambiando molto più velocemente di quanto sia mai accaduto nella storia della civiltà moderna, con effetti che si fanno sentire e che si intensificheranno in un futuro prossimo. Quello appena diffuso dalla Casa Bianca non è soltanto l'ennesimo preoccupante rapporto scientifico sui mutamenti climatici. Le conclusioni del lavoro degli scienziati di 13 agenzie federali statunitensi smentiscono infatti il presupposto su cui si basa l'approccio dell'amministrazione Trump sul clima, concetto che lo stesso presidente ha ribadito pochi giorni fa, ossia che il cambiamento climatico sarebbe una bufala. Le conclusioni del lavoro commissionato dal congresso americano dicono invece tutt'altro. Il cambiamento climatico è un fenomeno reale che rischia di avere effetti pesanti sull'economia americana con costi elevatissimi nell'ordine di centinaia di miliardi di dollari. Le perdite potrebbero arrivare fino al 10% del PIL, il doppio rispetto a quanto bruciato nella crisi del 2008. Supporre che le attuali e future condizioni climatiche saranno simili a quelle del passato non è corretto, dice il rapporto che prevede sfide crescenti alla salute, alla qualità della vita e all'economia. Serve un'azione rapida, i tempi per intervenire sono stretti, non possiamo più aspettare, avvertono gli scienziati, che hanno calcolato in 141 miliardi di dollari entro la fine del secolo il costo solo per le morti legate all'eccessivo caldo. Il rapporto con l'America ancora sotto shock per i roghi che hanno devastato la California le scorse settimane è una clamorosa sconfessione delle convinzioni del presidente che in passato si è più volte attirato le critiche degli ambientalisti, in particolare per la decisione di uscire dall'accordo sul clima voluto dal suo predecessore Obama. Mercoledì Trump è tornato a prendersi gioco delle teorie scientifiche sul surriscaldamento del pianeta. Questo, ha detto, è uno dei più freddi giorni del ringraziamento in assoluto. Bisogna vedere ora se almeno le possibili ricadute sull'economia americana riusciranno a fargli cambiare idea. Allora, adesso tra poco la pagina sportiva. Prima di fermarci, però, torniamo in diretta live con le immagini che vi possiamo mostrare nel cuore di Parigi. Le immagini con cui abbiamo aperto sono quelle della devastazione di queste prime ore della giornata. Lo sapete, quella che era la manifestazione autorizzata per i gile gialli che da una settimana infiammano le strade di tutta la Francia con la protesta e con i blocchi, parte tra poco, dalle 14. Ma le immagini che vedete e che avete visto anche in apertura del telegiornale si riferiscono a ciò che non era autorizzato. C'è una zona in cui non ci si può avvicinare e parte dei dimostranti che, a quanto pare, non sono certo le persone che faranno parte del corteo ordinario da ore stanno puntellando la città con saccheggio e distruzione, una serie di scontri con le forze dell'ordine, l'uso di lacrimogeni da parte della polizia che, peraltro, a sua volta ha una serie di rivendicazioni nei confronti del governo. Perché quel che è successo, l'abbiamo visto anche nelle immagini di questa mattina, è che tra le strade della città sono rimaste le barriere, quelle di ferro, che servono per dividere, per esempio, i lavori dei cantieri stradali. Ebbene, con queste barriere di ferro i manifestanti hanno provato a irrompere, a forzare i posti di blocco, hanno lasciato devastazione, hanno provato addirittura ad arrivare proprio vicino all'Eliseo dove, lo ripetiamo, cercano un confronto diretto con Macron, un incontro, ne chiedono naturalmente a più riprese la possibilità che si dimetta, ma è piuttosto chiaro anche per chi sta vivendo in queste ore la cronaca di quella che è la mobilitazione che ci sono due anime distinte, quella più strutturata, radicata e autorizzata che tra poco sfilerà per le vie della capitale francese in modo ordinato, e invece gli infiltrati o comunque altri dimostranti che hanno scelto, peraltro, in alcuni casi, come nei giorni scorsi, una via fatta di violenza e di scontro cercato con le forze dell'ordine. Ci fermiamo e naturalmente però non con l'informazione perché manca ancora tutta la pagina sportiva. Tra poco. Dico di nuovo insieme la pagina del calcio, innanzitutto il campionato che torna, come spesso capita quando poi ci attende la settimana di Coppa Europea e già al sabato è abbastanza suggestivo in termini di squadre che scendono in campo e di sfide, soprattutto molti occhi sono puntati sull'attesa del Napoli. Poco fa in Cerotti è stato piuttosto chiaro, sfruttiamo questa finestra di calendario particolarmente impegnativa per la Juventus per ridurre la distanza e dare un senso all'inseguimento ai bianconeri. La lunga volata per il titolo d'inverno comincia tra meno di un'ora, sette partite in un mese, tutte d'un fiato con in mezzo gli impegni europei. Sette partite che racconteranno il primo momento di verità di un campionato sinora dominato dalla Juve. A provare il primo scatto è la Roma, impegnata a Udine alle 15, esame importante contro un avversario che ha bisogno di punti, e che il nuovo allenatore Nicola in queste due settimane di sosta ha provato a rianimare. Di Francesco ha definito questa Cludinese la gara più insidiosa, persino più difficile dei prossimi incontri con Reale e Inter. Massima attenzione quindi e fiducia chic a segno contro la Sampdoria prima della sosta e poi anche con la maglia della sua nazionale. Per il resto Di Francesco deve fare i conti con molti giocatori incerruttati, mancheranno i pilastri De Rossi e Manolas, il problema infortuni, chiara conseguenza di un calcio che non ha più pause, riguarda anche le altre grandi. A cominciare dalla Juve che alle 18 ospita la SPAL, centrocampo in emergenza, fuori uso Chedira e Mre Can, per Allegri le certezze arrivano dall'attacco precisamente da Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Lui sta bene, Michele ha fatto un buon allenamento e comunque per quello che ha fatto, ho già detto varie volte e ripeto, meriterebbe il pallone d'oro. Momento di verità anche per l'Inter che deve mettersi alle spalle la brutta caduta di Bergamo, lo farà nel solito palcoscenico affollato di San Siro. Il pubblico è quello dei grandi match, anche se di fronte c'è il Frosinone. Le sconfitte non lasciano traumi, sono cose che succedono, ha detto Spalletti, che intanto ha dato il benvenuto tra i manager, a Marotta e un trequartista, le vittorie parlano per lui. In attacco dovrebbe toccare a Lautaro Martinez ancora la ricerca del primo gol. Anche Spalletti ha qualche grattacapo medico indisponibile versalico, Naingolana ha recuperato ma partirà dalla panchina. E inoltre, Brozovic è squalificato. Problemi di organico anche per il Milan, che in pratica è un'ecatombe. Domani, nell'importante trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, Gattuso avrà la difesa titolare fuori uso e in attacco non potrà contare su Iguain, che starà fuori anche contro il Parma. La Corte d'Appello federale ha infatti respinto il ricorso della società rossonera. Meno problemi per Ancelotti, che con il Chievo dovrà rinunciare solo a Verdi, ma potrà contare sull'apporto del talento di Mertes e Insigne e la voglia di riscatto di Milik. E domani sera poi c'è il derby della Lanterna. Conti alla mano è il numero 117, ma per tante e tanti ragioni molte, facilmente intuibili, è come se fosse il primo. Nostro inviato. È conosciuto in tutto il mondo come il derby della Lanterna, una lanterna ancora ferita dalla tragedia dello scorso 14 agosto. Quella di domani sera è la prima stracittadina dalla tragedia del Ponte Morandi e già perché a Genova ormai il tempo si calcola da prima o dopo il ponte. Nulla potrà più essere come prima, forse, neppure il derby, iniziando da quell'immagine dei due tifosi rosso-blu cerchiati e abbracciati, diventata virale su internet poche ore dopo la tragedia. Un giro nel quartiere di Certosa, quello più vicino al viadotto sul Polcevra. Il Sampdoria Club è proprio sullo stradone a pochi passi dal Morandi. Il Genoa Club vecchia Certosa, alcune centinaia di metri più lontano. Chiaramente questo derby deve essere anche un ricordo, ovviamente per quello che è successo, ma deve essere anche un motivo di rinascita della città. Cioè questo derby deve accomunare entrambi le tifoserie comunque, che si combatteranno per le proprie squadre, ma col bene comune, diciamo, di ricordare questa tragedia. I piccoli Genoani si distraggono giocando a bigliardine o con i colori rigorosamente rosso-blu. Il murale dipinto all'interno ricorda la storia del club più antico d'Italia. Diversa l'atmosfera nel Sampdoria Club Certosa, dove i tifosi giocano tranquillamente a carte in attesa della stracittadina. Questo è un derby ancora più sentito che forse ci viene più dal cuore, forse, forse, dico forse perché poi nei 90 minuti le intenzioni sono belle, sono fraterne oserei dire, no? invece che da cugini però poi quando si è lì non lo so andrà a finire il derby è il derby. In tutta la Valpolcevra il tifo è equamente diviso tra Genoani e Sampdoriani tanto che un famoso pasticcere di Ponte Decimo quartiere a nord di Certosa ha sempre dedicato al derby di Genova qualcosa di particolare dalle sculture di cioccolato da 120 kg l'una di Milito e Cassano all'ultima creazione decisamente più sobria che si rifà proprio l'immagine dell'abbraccio dei due tifosi rosso-blui cerchiati Genoani e Sampdoriani assieme sempre quest'anno un'occasione maggiore per rafforzare questa parentela mi auguro qualche ora di gioia di distrazione per tutti gli sportivi perché Genova e i genovesi hanno sofferto stanno soffrendo tanto questa situazione è anche il weekend dal punto di vista dei test internazionali che chiude il novembre del rugby non lo fa certo con un impegno agevole ma davvero affascinante per l'Italia che tra poco a Roma gioca contro la Nuova Zelanda beh che dire sono i campioni in carica per due volte consecutive e soprattutto portano con loro ogni volta che scendono in campo la magia il fascino la potenza e qualt'altro vuol dire All Blacks succede una volta ogni due anni di incontrare gli All Blacks reduci da una sconfitta hanno perso di misura una settimana fa contro l'Irlanda sì proprio la squadra che ci ha battuto 54 a 7 a inizio novembre inutile disegnare equazioni matematiche per cercare di capire come finirà oggi tra gli azzurri e la migliore squadra del mondo loro sono i maestri del rugby più degli inglesi che questo gioco lo hanno solo inventato hanno una capacità di chiudere le partite che nessun altro collettivo può vantare sono vincenti quest'anno hanno affaticato con Sudafrica e Australia ma negli ultimi 10 minuti hanno ribaltato il risultato portando a casa la vittoria questione di mentalità si potrebbe scrivere un trattato di psicologia di gruppo con le loro performance tutti per uno uno per tutti tecnicamente tra gli All Blacks ci sono alcuni giocatori leader come il capitano della squadra o quello Maori che gestisce il momento dell'H prima del match gli altri sono tutti uguali grossi potenti e veloci anche i piloni però possono diventare tre quarti e correre rapidissimi sono quasi intercambiabili la prima volta che li vide giocare il re d'Inghilterra Giorgio V chiese cosa mangiassero mai i suoi suditi di quella parte così lontana dell'impero gli risposero pesce verdura fibre e uova la differenza saltava all'occhio anche ai profani da allora le cose non sono cambiate molto l'Italia della nuova generazione di rugbysti azzurri li affronta con rispetto e orgoglio giocarci contro è un onore in campo però ti tolgono il fiato non ti fanno respirare sono spietati implacabili senza pietà non fanno sconti a nessuno giocano sempre al massimo perché ne errebbe il massimo rispetto per l'avversario e quando non lo risparmi vai a tutta questione di etica con questo ci fermiamo vi ricordo informazione che torna agli eventi noi se volete ci vediamo anche domani alle 13.30 un buon weekend a tutti voi a domani grazie a tutti grazie a tutti